Un appuntamento importantissimo sarà quello di metà ottobre con il Mondiale Alonato, un pilota in corsa. Chi è? Il pilota è Giacomo Pedrini, che è il figlio del team manager Andrea. Purtroppo, a causa Covid, non siamo riusciti a far arrivare piloti stranieri. Parecchi paesi sono ancora chiusi e quindi per quest'anno sarà così. Quindi Mondiale, che si farà allonato a Brescia. È una categoria monomarca, quindi con motori rock, che sono motori distribuiti dalla Tony Kart. E quindi una bella esperienza, una gara che dura quasi una settimana, perché c'è una pre-gara dove si incontrano tutti i piloti che poi battaglieranno per la gara successiva. Quindi è un bel ambiente, diciamo. Mi aspetto una gara molto bella, un evento che ho già fatto nella 60 minicart, è un evento bellissimo e spero di arrivare molto davanti.